La SST della Vancamonica aderisce alla settima edizione della giornata nazionale per la salute della mano dedicata all'informazione e alla prevenzione delle patologie di mano, polso e gomito promossa dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano organizzando visite gratuite proposte alla popolazione. La mano è certamente un organo del corpo umano di fondamentale importanza per la vita di relazione, partendo dal lavoro e fino alle pratiche più alte e specializzate nel campo dell'arte. L'equipe ortopedica dell'ospedale di Esine da sempre ha sviluppato una particolare attenzione a mano, polso e gomito e oggi grazie alla presenza nel reparto di numerosi specialisti sta ottenendo un crescente consenso nella comunità scientifica nazionale. Questa manifestazione prevede l'esecuzione da parte di un'equipe costituita da più professionisti di visite assolutamente a titolo gratuito a tutta la popolazione per quel che sono la patologia della mano, del polso e del gomito. Purtroppo sono patologie spesso legate all'età, all'invecchiamento oppure all'attività lavorativa per cui quasi tutte le persone soffrono di qualche problema alla mano. La mano è uno dei nostri organi più importanti, viene sfruttato tantissimo e quindi ha spesso delle problematiche, quindi vanno trattate da specialisti. È un importante evento che permette chiaramente alle persone di poter identificare eventuali patologie conclamate, cioè pazienti con dei disturbi gali o identificare eventuali patologie che non si sono ancora ben clinicamente manifestate o correttamente diagnosticate. Nella giornata di sabato 11 maggio dalle 9 alle 13 un'equipe di specialisti dell'unità operativa di ortopedia e otromotologia dell'ospedale di Esine sarà dunque a disposizione dei cittadini per effettuare consulti gratuiti, suggerire approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative, orientare verso trattamenti chirurgici. I posti disponibili sono 28, prenotabili al numero di telefono 0364 369 872 fino a giovedì 9 maggio. Le visite verranno effettuate presso i poliambulatori della nuova palazzina dell'ospedale di Esine.